Non mi interessa il punto di qualità del gesto, giocato vicino, braccio, sulla linea, giocatore esterno giocato per favore, questo materiale vaccio, lettere i due coraggi del mondo che poi c'è giocatore, nei treni armi, gefuta quanto accolta. Invece in alto, opri els altres 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 fiusi a absence up. Grazie. 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 Un minuto.